Grazie a tutti. Eppure c'è chi parla del 25 aprile come di una ricorrenza stanta, vecchia. Anche questa mattina c'è chi ha scritto che questa è una festa morta. Vengono qui, vengono qui a Milano e gli scegli. Gli scegli. Questa festa è viva. È più viva che mai. Perchè la festa degli italiani liberi. Oggi festeggiamo la ricorrenza della libertà. Questo è il dono più prezioso per ogni essere umano. Si c'è gioia oggi, certo c'è gioia, ma c'è anche commozione. Perchè il nostro pensiero va a tutti coloro che per farci questo dono, la libertà, hanno perso la vita. Sono stati uccisi, sono stati torturati, internati nei campi di sterminio. E vedete la cosa più grande. Erano giovani, erano giovanissimi. Avevano anche diversi orientamenti politici, diversa fede religiosa. La resistenza non fu di parte. Un modo comunale, unicario, per restituire dignità a tutta l'Italia, all'Italia intera. Ultimamente, dopo che mi hanno eletto Presidente della Camera, mi hanno fatto un regalo. Un regalo che è un libro, un libro che conosciamo tutti bene, Lettere dei condannati a morte, della resistenza italiana. È un libro straordinario, perché non è scritto con la penna, è scritto con la vita, la vita di tante persone. Quello che mi colpisce di quelle lettere è l'età di chi le scrisse, l'età. Non è scritto con le lettere che ho, che ho reso dalla morte. Quasi tutti avevano circa 20 anni, quei ragazzi. E erano tutti animati dalla speranza di un futuro migliore per questo nostro paese. Allora io vorrei che da qui, a tanti anni di distanza, quei ragazzi della resistenza, inviassimo un grandissimo applauso. E' troppo grande per tutto quello che hanno fatto, l'hanno fatto per noi. Vedete, durante la mia esperienza, anni e anni di lavoro negli organismi internazionali. Ho conosciuto gli orrori della guerra, non me l'hanno raccontata la guerra, purtroppo. Sono conosciuta nei Balcani, sono conosciuta in Medio Oriente, in Africa. E allora altre ragazze e altri ragazzi imprigionati, torturati, ammazzati. E se poi questi ragazzi riescono a mettersi in santo, diventano rifugiati, persone costrette a fugire da loro in paesi, perché vittime di persecuzioni e di regimi. Come Sandro Bertini, costretto dal fascismo, riparava in Francia e moltissimi altri, come lui. E allora, vedete, dobbiamo localizzare il nostro pensiero su un punto. Quei giovani della primavera araba, che hanno sfidato reggibili dittatoriali, che sembravano irrepubili, e molti altri, in tutto il mondo, in tanti e troppi paesi del mondo, continuano a morire in nome della libertà. Sono anche loro compattenti per la libertà.